Carissimi amici, torno alla rubrica Cure Aperto, che è la rubrica con la quale io rispondo alle vostre domande, quindi fatemi pure le domande sotto nei commenti a questo video e anche oppure in privato nella mia mail. Questo perché? Perché a volte io trovo delle cose che mi chiedete sotto altri video anche a distanza di settimane, giorni dai quali viene pubblicato il video quindi io poi alla fine a volte non riesco nemmeno a seguire tutto quindi preferirei che le domande più importanti e che voi me le facesse insomma sotto questo video qua di questa rubrica e poi io raccolgo tutte le cose principali. Vi risponderò, vi risponderò a tutto. Qualcuno mi dice come mai non parli di tutta questa situazione attuale la situazione attuale nella quale viviamo, di questa pandemia, di queste misure, di queste proteste e tutto il genere. Ora io non è che, per scaricare non voglio parlare o che non abbia una mia idea il problema è che io se vi è dato un'impronta a questo canale, un'impronta di unione cioè di cercare fra di noi qualcosa che ci accomuna, qualcosa che non faccia divisione come la politica ad esempio. Se io parlassi di politica o di tutto ciò che sta avvenendo probabilmente ci sarebbero centinaia di polemiche ma non fra due parti, ma fra due, tre, quattro, dieci fazioni e si creerebbero anche delle cose spiacevoli eccetera. Quindi io purtroppo genericamente posso pure parlare ma non andare a fondo sia per quanto riguarda questioni prettamente politiche, partitiche per meglio dire e sia per quanto riguarda tutta questa situazione nella quale io ne posso dare solo diciamo un commento di ordine generale perché voglio cercare sempre le ragioni che uniscono e non le ragioni che dividono e queste purtroppo sono ragioni che dividono quindi dobbiamo cercare questo. Quindi però io non mi voglio sottrarre del tutto alla situazione quindi io nei limiti che ritengo vi risponderò. Quindi domande di carattere personale, sociale, dei tempi che viviamo, dei problemi che potete avere e sui quali in linea generale posso esprimere la mia idea, la mia esperienza e ripeto se qualcuno magari lo vuole fare in privato mi scrive sulla mail, ovviamente io non dirò né la località né il nome per rispetto della privacy. Quindi domani farò il video risposta, quindi vi prego tutti di concentrare le domande sotto questo video ecco sotto questo video e così che io in talta serata raccolgo le principali domande insomma e faremo un bel video risposta e sarà sempre un modo piacevole per stare vicino a voi per vedere un po' il mio pubblico cosa ne pensa, quali sono i problemi fondamentali se questo stare insieme ci porta un reciproco vantaggio. A me lo porta senza altro perché io mi sto veramente moralmente arricchendo perché ho trovato in questa dimensione delle persone favolose che siete tutti quanti voi. quindi vi aspetto numerosi e il video risposta domani. Un abbraccio a tutti quanti voi e come sempre vi dico vi voglio bene.